Il 7 giugno alle 18.30 allo Stadio Gran Sasso, Italo a Concia, a conclusione dei festeggiamenti per i 90 anni della Roma, il Roma Club Vittorio Zingarelli ha voluto organizzare il primo trofeo intitolato Italo Foschi, che vedrà una partita tra una formazione giovanile dell'Aquila Calcio del 2003 e una dell'S Roma del 2004, con la presenza di vecchie glorie giallorosse. Italo Foschi ancora vive oggi nella Sala Museo all'Aquila. C'è la sua famosa scrivania, dove fu firmata la fusione nel 1927 delle quattro società romane per dar vita alla Roma. Vittorio Zingarelli era il nipote prediletto di Italo Foschi. Lo racconta così Riccardo Zingarelli, presidente del Roma Club. È un legame chiaramente fortissimo. Italo Foschi, il fratello di mia nonna, non aveva figli. Quindi i tre figli di Italia Foschi sono stati quelli che per lui sono stati i veri figli. Fra questi mio padre Vittorio ha avuto un legame strettissimo con lui e ha seguito poi tutte le sue vicissitudini e il resto. Nell'eredità morale di Italo Foschi c'è stata anche questa eredità materiale di aver lasciato lo studio esattamente dove il 7 giugno 1927 è stata costituita con la fusione della fortitudo Alba e Roman, la S Roma. L'incasso, il biglietto costerà 5 euro, sarà devoluto in beneficenza all'Aquila per la vita. L'ingresso sarà gratuito invece per i ragazzi sino a 15 anni. Il 7 giugno sarà innanzitutto una giornata di sport e di amicizia. La Roma visiterà anche i principali monumenti della città dell'Aquila. A loro sarà mostrato anche tutto il patrimonio notevole della Sala Museo, un luogo di storia, di cultura importantissimo per la città dell'Aquila. Un trofeo che inizia ma che di certo, questa è l'intenzione degli organizzatori, proseguirà anche nei prossimi anni. Abbiamo organizzato questo trofeo perché tra l'altro c'era un impegno da parte della S Roma al momento dopo la morte di Italo Foschi e diceva che si sarebbe organizzato dal 1949, pensate un po', un torneo intitolato Italo Foschi.